Buon pomeriggio dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 un chilometro di coda tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma per incidente. E rallentamenti tra Calenzano Sesto Fiorentino e la variante di Valico in entrambe le direzioni. Sulla FIPILI rallentamenti tra Scandicci e l'allacciamento A1 Firenze Scandicci in direzione Firenze. E fare attenzione per un veicolo in avaria tra Santa Croce, Sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Mare. In A11 in direzione Firenze l'area di servizio di Serravalle Sud sprovvista di GPL per un guasto all'impianto. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata in più punti per lavori. Sulla statale Trebis-Tiberina fondo stradale di Sestato tra Val Savignone e San Carlo. Buoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione tra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!